Alba, il tuo compito sarà far atterrare la tua astronave nel cortile del carcere e bloccare il fuoco dell'artiglieria. Alba, distruggi tutte le basi missilistiche, così Aldo può mettersi al sicuro. Farò tutto ciò che occorre. Alba, ho sistemato un po' l'astronave, perché non provi ad andare su? Brava! Mi beccato un'altra. Ah, perfetto! Lui ci puoi scegliere, Alba. Stai uscendo alla grande e rimane così proprio. Sì. 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 Sì, sia. Sì. Un rapido Preparatevi a una bella sorpresa Sapete che grande Amba, ti serve un respingimento in questo caso Ti servirà uno shin di scudi per distruggere quegli scudi No! 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 Usa il respingimine per eliminare quelle mie Patacca! No! 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 Adò, è parte dei raggi solari sulle mie nasce Grazie a tutti Grazie a tutti Brava Procedo verso il bersaglio Grazie a tutti Per ora vai avanti con la missione È bello vedere che siete ancora tutti interi Grazie a tutti Signore, la strada è stata sgombrata in modo che possa introdursi nella prigione Grazie a tutti 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 Aldo Grazie a tutti 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 Aldo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti